buonasera allora sempre per la serie pillole di seduzione questa volta voglio voglio dire una cosa invece alle ragazze alle fanciulle alle donne l'altra volta ho detto che lui quando si approccia ci deve andare più lentamente e andare più di testa per poi arrivare al sesso invece voglio dire una cosa a voi ragazze non siate troppo ci sarebbe un termine che non mi piace che è appiccicose nel senso cominciate una storia con un ragazzo se non vi chiama la sera alle sette alle otto oppure non gli state troppo addosso perché questi scappano cioè cercate di di equilibrare un po anche il vostro interesse verso di lui poi un momento se la cosa è vicendevole per carità ben venga sentitevi ogni due minuti e mezzo siamo tutti fetici e contenti io parlo ovviamente nella norma dico cose che che ho visto che ho vissuto perché delle volte succede che magari si esci con qualcuno qualche volta la cosa sembra che funzioni che vada avanti e poi comincia questo atteggiamento a volte femminile a volte maschile ho detto che mi rivolgo alle donne perché solitamente è più femminile ma insomma cercate di di dare spazio di prendere il vostro spazio e di non annullarvi completamente per questa nuova situazione che vi entusiasma piano piano non va chiamato non va lasciato il messaggino non lo tampinate con sto telefonino perché poi questi lo spengono è l'ora di ci arrabbiamo vabbè mi è venuto in mente ve l'ho detto ok alla prossima pillolina ciao